Buongiorno, è me Antonio, venendo da Longuini Pharmaceuticals. Ora, se trovi che il weather è caldo, bisogna prendere il San Blanco. Il San Blanco è buono per la pezzi. Perfetto! Si tratta bellissimo. E anche bisogna avere la luce del corpo, specialmente signoritas. È molto buono per la pezzi. Se vuoi fare la pezzi con il gel, come Antonio Antonio, usate questo. Questo è qui. E anche la crema di face. Non ricordate di scegliere bene. Perché se guarda belle, bisogna scegliere bene. Ti piace l'Italiano? L'Italiano? Spaghetti? L'anguini? Macaroni? Ovviamente. E bisogna una buona sauce. Una buona sauce? Oliva e oliva. B.P. È molto buono. La migliore del mercato. Questo è perfetto. E l'Italiano dà gli occhi. Antonio non piace l'occhi. Questo è molto buono. Nexio. Perfecto. Belle. Andrea. Avete. Ab mixing. Devja avustare benissimo.